Ciao a tutti amici di Playa Latina Web TV, siamo Claudio e Loretta della scuola Salsa Caribe Dance di Ravenna. La Loretta si è prestata gentilmente e sfacciatamente a fare pubblicità la nostra scuola, siamo una scuola come detto di Ravenna, il nostro sito è www.salsacaribedance.com proponiamo salsa portoricana, salsa cubana, balli di gruppo, lezioni anche di baciatango e abbiamo anche la sezione di Sammo Giovani dove proponiamo danza moderna e abbiamo anche Folk. Siamo qui per fare un cammino con voi e in questa sede vi proponiamo i primi passi della salsa portoricana e passo la parola alla maestra Loretta. Ciao a tutti, sono Loretta come Claudio prima mi ha presentato. Vi ricordo che faremo vedere i passi base della portoricana. Nella portoricana specialmente per quello che riguarda la donna c'è tantissima gestualità che vi faremo vedere un pochino più avanti accompagnate da figure nell'esecuzione di questi passi. Grazie mille, ciao alla prossima puntata.